SEMBRA CHE TU ABBIA QUALCOSA DA DIRMI, LEON HO UNA COSA DA CHIEDERTI MA DUBITO, RISPONDERÈI CHIARAMENTE RACOON CITY SAI, DOPO L'INCIDENTE IL MONDO E' CAMBIATO CERCHI DI SALVARE UNA PERSONA E NE UN MUOI 100 SONO CAMBIATO ANCH'IO TU, LEONESS KENNEDY NON SEI CAMBIATO PENSI DI AVERLO FATTO ECCO LA MIA DOMANDA TU SEI CAMBIATA, ADA O STAI DI NUOVO CERCANDO DI USARMI SECONDO TE CI SIAMO PENSI TROPPO, TESORA CI VEDIAMO FINISCE SEMPRE COSÌ EUROPE HOPE 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 CO razor